Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Mi scuso per l'illuminazione, toccherò un po' in fase di rendering, però purtroppo, ancora una volta siamo in un soppalco buio, appestato, sembra di stare dentro una cripta e con la luce proprio un ci siamo Comunque, dopo questa piccola e veloce intro, voglio tornare a parlare di stampanti 3D e qui dietro vedete, al solito, ve l'ho già presentato, è comunque l'Elego Mars 2 Pro, qua dietro e a breve ci dovrebbe essere, non voglio dire niente perché non mi è ancora arrivata e non vorrei gufarmela ma una bellissima sorpresa da parte di Elego e da questa parte vedete la Genius dell'Artillery che per me, come sempre detto, non le ho provate tutte, metto le mani avanti, però di tutte quelle che ho provate 3.4 è in assoluto la miglior stampante FDM ed è una cosa disumana, questa è davvero la stampante che premi un pulsante e stampa non scherzo, veramente, non devi nemmeno mettere in mano i supporti e volevo parlarvi un po' di stampanti 3D anche per farci un po' una chiacchierata perché con quello che vedete qui davanti vi volevo far sapere, come già un'altra volta ci avevo fatto un altro video ma ce ne farò sicuramente molti di più, la vogliamo far diventare una serie abbastanza costante volevo parlarvi delle stampe grandi o comunque medio-grandi che abbiamo iniziato a fare per il negozio di mia moglie che è aperto da qualche mesetto un negozio che trovate come primo link in descrizione pagina Facebook che potete contattarla direttamente per le stampe ma ve ne parlo a breve dopo la sigla come detto faccio questo video per parlare del negozio di mia moglie che è una pagina che trovate direttamente su Facebook tanto vi lascio il primo link in descrizione e vi facciamo vedere un po' delle cose che abbiamo stampato sicuramente di quelle più importanti e che danno più all'occhio qua giù, ora non vi faccio una zoomata perché come levo la messa a fuoco di questo telefonino con queste luci che ci sono qui sembra che davvero mi avvolgo dentro un sudario, lo so nemmeno io dentro un loculo finisco e abbiamo fatto delle cose medie e delle cose grandi questa è una cosa piccolina che va ancora dipinta e tutto quanto stiamo stampando, abbiamo trovato i progetti su Thingiverse tutti quanti i cavalieri d'oro delle 12 case dei cavalieri dello zodiaco in dimensione, in scala questa è leggermente più grande di Warhammer perché sono 5 cm dai piedi alla testa questo è Gemini, il cavaliere di Gemini e li stiamo stampando tutti per vedere anche come vengono e poi saranno pitturati comunque questa è una cavolata non sono nemmeno per un gioco di ruolo né niente né un gioco da tavolo li abbiamo fatti anche per vedere sui piccoli dettagli come lavora la stampante FDM quella in plastica e devo dire che sono particolarmente contento poi questa statua qui che ha fatto mia moglie che sicuramente non vedrete benissimo comunque è una statua che abbiamo voluto fare questo progetto perché è molto bellina e mi piace molto a me questa dualità tipo bene male, luce, ombre ora infatti vi faccio vedere dove da una parte vedete c'è tipo una donna con un velo con le mani concerte davanti e se lo girate dall'altro lato invece c'è una specie di diavolo un demone col cappuccio che tiene le mani vedete dietro e qui davanti c'è una spada quindi è fatto veramente bello da una parte sembra una figura poi vanno dipinti e sono solo stampati tutte in plastica da una parte una figura comunque benevola e da una parte una figura maligna e queste cose mi piacciono veramente da morire e l'ha fatta molto bene poi vabbè ve l'avevo già fatto vedere in un altro video presentazione genius Michael Myers questa qui è la versione di Rob Zombie però c'è anche la testa intercambiabile perché ci potete mettere o quella del film di Rob Zombie anche come maschera o quella del film che io preferisco di Carpenter vabbè come prima prova abbiamo messo questa qua e questo è un Michael Myers di una questa qui dovrebbe essere sui 20 cm una cosa del genere qualcosina di più fatto completamente in in plastica con la stampante FDM e che va dipinta ancora tutto quanto quindi ci abbiamo dato soltanto il primer e va dipinto passando ai progetti quelli grossi se vi ricordate ci abbiamo fatto un video dove il regalo la sorpresa della vita che mi ha fatto mia moglie che vi giuro sul mio nome morissimo e mentre faccio il video non ci credo ancora perché l'ho voluto veramente da una vita intera e abbiamo fatto il fucile impulsi questo fucile impulsi è stato costruito in varie parti infatti erano vari pezzi che poi dopo come vedete sono stati uniti tutto quanto tutto stampato con questo piatto ovvio tutto insieme non ci enterebbe mai quindi comunque abbiamo fatto ha fatto tutti quanti i pezzi poi dopo la scartavetrata l'ha pulito c'è stato un lavoro disumano non è una prop replica ma come replica l'avrebbero potuto usare tranquillamente per fare delle scene del film quindi è venuto veramente bene tra le altre cose fissate come sempre drogate di Alien mia moglie ha fatto mi ha fatto la PC quindi il mezzo leggero blindato di Amarin Coloniali che guardate lì il dettaglio come cavolo è venuto e vi sto facendo vedere soltanto non sto parlando di resina oggi soltanto di cose fatte con le FDM quindi questo è un altro lavoro e poi è bello grande non è in scala per giocarci con le miniature questo è un pezzo da colorare da mettere in vetrina come soprammobile però c'è guardate che figata che è venuta la Sulaco anche questa lunga 30 cm che è stata fatta in vari pezzi ed è la nave di Alien e Marine Coloniali che avete visto nel film Aliens quindi mi ha fatto il fucile impulsi più la PC più la Sulaco cioè guardate è bella poi il dettaglio è fatto bene c'è anche fatto la scritta qui davanti e dal lato di qua la torretta quella grande la torretta quella piccola è fatta veramente veramente molto bene guardate anche i motori di rete e tutto quanto questo è un altro pezzo che abbiamo stampato ma parlando anche e soprattutto di scenari per wargame scenari barra diorama vi si fa vedere l'ultimo lavoro spero si veda qualcosa ma tanto mia moglie ci sta facendo un video sopra guardate questo scenario che è uno scenario e diorama per la banda dei Night Haunt Night Haunt comunque 28 mm come base ci potete mettere quello che vi varia a voi per Warhammer Underworlds che a breve comunque inizieremo a trattare sul canale e questo è uno scenario in scala in cui potete mettere le vostre miniature quindi ce le potete conservare direttamente per portarle a giro perché poi alla fin fine almeno le mette tutte insieme funge da diorama quando in casa lo mettete da una parte ci mettete la vostra banda di questa qui è fatta ve l'ho detto per i Night Haunt però ci potreste mettere anche non lo so gli Stormcast e altre cose per quanto magari questo qui è un cemiterio più secondo me consono non morti spiriti e cose del genere però ce le potete mettere tutti quanti pitturati ce n'è uno solo pitturato che vi facciamo dire in un altro video però guardate è anche bello da vedere se metterlo in casa magari tutto illuminato con una cripta o perché no lo potete anche usare per giocare magari giochi di wargame tipo Warhammer cose del genere e questo coso qui si smonta ed è fatta in tre esagoni l'albero si stacca e questa parte qui con le tombe si stacca anche di qua e li potete usare per giocare negli esagoni di Warhammer Underworlds quindi non solo è un diorama dove mettere le vostre miniature ma lo potete anche smontare e mettere sul campo di battaglia per giocarci ma tanto vi ci farò un video dedicato nel corso dei mesi ci sono state fatte un po' di domande anche giustamente perché questo comunque è il nostro lavoro o meglio correggendomi a quello che ho appena detto è il lavoro di mia moglie ci sto dietro anch'io tutto quanto però questo è il lavoro su cui lei dedica tutta la maggior parte della giornata e non del tempo libero quasi di tutto il tempo che c'ha quindi comunque per noi è un lavoro e a volte sono state fatte domande magari su come mai un oggetto può avere un costo come mai magari qualcuno può averci un altro tipo di costo anche a livello di tempo magari fatica lavorazione e tutto perché quando comunque vai a lavorare soprattutto con l'FDM e a fare una figura grande non è soltanto un fatto di sì avere una stampante veloce che premi un tasto e stampi perché è così la studio progettazione zero però il lavoro che c'è dietro perché poi devi vedere che i pezzi combascino devi andarle a pulire devi andarle a scartavetrare devi andarle magari qualcuno li vuole anche i dipinti quindi ci devi andare a mettere primer il colore il finale insomma è un lavoro sicuramente grande e i costi sono quello che sono ovvio ora per farvi un esempio stupido una miniatura così piccina di 5 centimetri cosa te la farò pagare te la farò pagare 5 euro tutt'al più se una miniatura del genere la vuoi anche dipinta te la faccio pagare 10 ma finisce lì 9-10 euro però sicuramente per un lavoro più grande provo per farvi un esempio il fucile impulsi dei marine coloniali qualcuno mi ha chiesto ma una cosa del genere me la potresti stampare e vendermela certo che sì ovviamente una cosa del genere ci vuole tempo due settimane di lavoro più ci vuole tutto quanto il materiale colori vanno comprati ti devo vendere una cosa del genere meno meno per tutto il tempo che ci vuole due settimane giorni e notte a stampacchi non ti fa dormire lavorarci e tutto non ti posso chiedere meno di 250 anche perché 60 euro fra materiali e spese postali ce l'ho io quindi perlomeno due settimane di lavoro tutti i giorni qualcosa mi ci diventerà però ovvio ci sono anche altri tipi di figure tipo il diorama una cosa del genere che vi ho fatto vedere prima non vanno a prezzi spropositati però da una parte secondo me c'è anche da comprendere il lavoro che c'è dietro non è soltanto la stampa ragazzi la stampa non c'è più bisogno nemmeno fra poco queste macchine stamperanno da sole senza che voi nemmeno cambiate la bobina perché sono macchine non sono più quelle di anni fa fanno tutto e sono soprattutto anche facili da calibrare però è il lavoro che c'è dietro dell'artista o della persona che comunque vi tira fuori il prodotto che vi avete richiesto quindi c'è anche da pagare la mano d'opera ovvio se uno ti fa pagare un oggetto così piccino per la mano d'opera ci ha messo 30 euro ammazzatelo perché comunque è una figura piccolina non puoi chiedere più di tanto però devi chiedere la giusta cifra che un po' ti ripaghi anche perlomeno del tempo che ci hai dedicato e aprendo questo negozio abbiamo avuto a parte l'opportunità anche di migliorarci di anche perfezionarci su progetti e cose del genere però soprattutto vogliamo metterlo a vostra disposizione e ve lo dico proprio tranquillamente vi faremo i prezzi più bassi possibile ovvio ci vogliamo guadagnare e campare però vi faremo i prezzi più competitivi possibili immaginabili sul mercato non ce ne frega di guadagnarci uno sbotto di soldi però perlomeno rientrarci delle spese e prendere il giusto compenso qualcosina per la mano d'opera senza esagerare se vi serve qualcosa miniature diorama per questo vi ho fatto vedere anche un po' di cose quindi miniature diorama repliche oppure vi serve non lo so action figure come vi ho fatto vedere Michael Myers vi servono anche oggetti un pochino più grandi tipo mi piacerebbe quella pistola tutt'al più un pezzo di un gioco rotto o qualche pezzo introvabile di un gioco vecchio se si trova il progetto STL si può stampare assolutamente tutto comunque se avete domande richieste o quant'altro contattateci privatamente non serve lasciare un commento sotto il video tanto avete il primo link in descrizione la pagina dove rispondiamo io e mia moglie quindi il negozio di facebook ci contattate lì anche soltanto per sapere il prezzo poi se volete ordinare qualcosa soprattutto nei primi ordini facciamo anche un po' di sconto al finito primo ordine quindi facciamo spendere un po' meno insomma contattateci perché siamo qui per fare stampe per tutto per pimpare il board game per fare action figure per fare repliche per fare diorama per fare anche elementi scenici da usare nei board game fantasy seconda guerra mondiale oppure ambientazione futuristica sci-fi quello che vi serve si può stampare tranquillamente quindi contattateci e niente siamo completamente a vostra disposizione ciao ragazzi alla prossima ciao ciao